Sigona è il migliore in campo, super prestazione quest'oggi, vincono i Galacticos contro i Beer Garden Allora, partita che si era messa male all'inizio, addirittura svantaggio, poi però avete vinto, raccontacelo un po' allora Inizialmente la partita è stata molto combattuta, alla fine abbiamo dominato Senti, come mai siete andati sotto? Secondo te è una distrazione, un episodio isolato? Sì, una distrazione e la difesa Siamo dicendo, sei emozionato, sei emozionato di questo tuo premio, diciamo, questo tuo... Senti, un'ottima partenza per voi Galacticos, in via, a cosa potete puntare? Alzi! Alzi! Secondo posto Cerchiamo di vincere il torneo Secondo posto è brutto Va bene, grazie